Sia in Germania, ma anche le prime due partite, Bologna e Capodorlando, non siamo riusciti a giocare il nostro modo di giocare per la canestra. Penso che ieri siamo riusciti, un piccolo passo in avanti, però penso che dobbiamo continuare a lavorare perché è sempre un passo, abbiamo ancora tanti passi da fare. E' molto importante, però anche se dopodomani con Nancy sarà una partita secondo me molto più difficile perché è una squadra molto atletica e secondo me guardando Torino e Nancy sarà più dura la partita di mercoledì. Io spero che quello che abbiamo fatto ieri ci aiuta anche a giocare meglio in Europa e giocare la nostra difesa, giocare insieme, però sarà molto piuttosto. E spero che lo capiscono tutti che solo perché abbiamo vinto domenica adesso non vuol dire che automaticamente adesso siamo in ritmo, no? Dobbiamo fare piccoli miglioramenti ogni volta e se perdiamo mercoledì è importante fare un passo in avanti.